Ciao a tutti ragazzi di Spazio Games, sono Dr.Mirax e vedete in sfondo un trailer molto particolare che riguarda Call of Duty Advanced Warfare perché a quanto pare questo trailer riguarda gli zombie nel gioco è un trailer inedito, era stato inizialmente caricato ma poi subito tolto diciamo che molto probabilmente ce la si voleva aspettare un po' come sorpresa però comunque poi è stato subito tolto, però per fortuna bazzicando un po' in giro anche su Dailymotion troverete infatti la news sul sito di Spazio Games, c'è un link appunto che riconduce a questo video su Dailymotion riguarda proprio gli zombie in Advanced Warfare se vi ricordavate nell'intervista al ragazzo di Activision a Games Week ci aveva detto che per COD c'era ancora una sorpresa che non era stata svelata non si sa se questo video riguarda chiaramente una modalità a parte sopravvivenza agli zombie o se il fantomatico, diciamo il mitico round bonus di zombie che era stato scoperto quando era stato craccato il codice di COD in pre-download su Xbox Live quindi ecco non è ancora sicura questa cosa però questo trailer svela proprio gli zombies in Advanced Warfare quindi sappiamo che ci sono, non sappiamo se ripeto questa modalità sarà a parte quindi singola una quarta diciamo così modalità o se sarà una modalità compresa nell'exo survival che ormai abbiamo già conosciuto e abbiamo imparato a sapere dai capitoli prodotti da Slejammer come sopravvivenza su Modern Warfare 3 in compenso se ci fosse zombie sarebbe davvero una gran bella cosa questo è più di un rumor perché effettivamente il video c'è, vero e proprio lo potete vedere in questo momento con i vostri occhi non so cosa dire, aspettiamo ormai veramente, mancano due giorni anzi, sì due giorni scusate, al lancio della Day Zero Edition speriamo che veramente zombie ci sia perché almeno tutti quelli che hanno amato la serie su Black Ops 2 quindi a risolvere i sterile e quant'altro si possa trovare speriamo non sia un pochino con l'estinzione perché sì, poteva essere interessante però in altri casi poteva leggermente anche abbastanza stufare perché gli alieni sicuramente non hanno la stessa personalità diciamo così della modalità zombie è stata una buona cosa però zombie sinceramente attira molto molto di più detto questo è tutto il box dei commenti è rivolto a voi se avete opinioni, se avete visto anche voi questo trailer o meno è tutto a Dottor Mirax il mio canale è come sempre in descrizione quindi vi ringrazio se effettuare l'iscrizione vi lascio qui con questo video che fa intendere che ci saranno i zombie su Advanced Warfare non si sa bene ancora in che modo però non ci resta da aspettare poco più di 48 ore e lo scopriremo insieme quindi è tutto a Dottor Mirax e ci vediamo con un prossimo video qui sul canale di Spazio Games ciao a tutti